Beera Attraction La novità è una birra bianca a marchio Bed Brewer, Mr. White si chiama, presentiamo dei prodotti in esclusiva per il canale Oreca, la linea classica da 33 e presentiamo una birra, una sour ale, quindi una birra acida rifermentata in bottiglia che ha fatto dell'affinamento in botti di legno. A Beera Attraction abbiamo anche l'opportunità di incontrare dei nostri clienti esteri, abbiamo prenotato un'agenda di incontri, una decina in totale nella giornata di oggi, quindi soddisfazione anche per il nostro export manager.